Quindi che vogliamo dire di questa serata? Ringraziamo, ci ringraziamo a Vicenza E beh certo Io soprattutto per la bellezza, voi insomma, per gli arrancati In qualche modo ci arranciamo La nostra battuta che facciamo a radio Un momento di autostima Ringraziamo Mauro C Mauro Cielo Per le imprese della serata Per gli amici Mauro Sky Ringraziamo il pubblico Grazie ragazzi Grazie ragazzi Sono stati selezionati e non è che li abbiamo invitati Ma no, grazie anche Abbiamo preso quelli più dirigenti Grazie anche a Dorti in cerca di autore Che ci ha ospitato Prego Loredana Mi pare che la serata sia ampiamente riuscita E volevo darti il mio personale ringraziamento Per l'opportunità Grazie veramente a tutti voi È stata una puntata punto zero Come dice Federico Sicuramente ci si potrà Rincontrare Inventarci qualche cosa Anzi noi lo diciamo sempre A tutti quelli che passano per gli orti Se sapete fare qualche cosa E soprattutto ai ragazzi Perché ci fa piacere dare spazio E quindi ricordatevi di noi Qualunque cosa sappiate fare Insomma Anche un laboratorio di tre giorni Siamo aperti a tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Va bene E Ti faccio chiusura Chiusura In musica Non potevamo fare Abbiamo una musica E ci concentriamo Ricordiamo che Volevo un attimino dare un momento Per i nostri orari Per il posto Per la prossima stagione radio Allora innanzitutto potete Siamo in ebollizione Per quanto riguardano Le programmazioni Assolutamente sì Allora innanzitutto Passa a cercarci su Facebook Radio No Frontiere Napoli Nonostante quest'audio Che va e viene Allora potete comunque Cercarci appunto Su Facebook Twitter E anche Instagram Se li utilizzate Dopo comunque Vi forniremo tutti i dettagli Ecco per cercarci Vedremo i biglietti E diciamo E tutto Vedrete anche Le riprese fatte dal nostro Mauro Sky In tal senso Nei prossimi giorni Fra domenica e lunedì Insomma Comunque Saprete Tutto per quanto riguarda Appunto Il palinsesto Il prossimo Autunno Inverno Ora siamo in quello estivo Appunto Forse è molto meglio Cercare comunque Tutto su Facebook Dove appunto Continuamente Aggiorniamo la nostra pagina Su eventi Eccetera eccetera Volevo dare anche Un ringraziamento Oltre all'Odedana Per la grafica Volevo ringraziare Selene 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 una ragazza E noi di solito E noi di solito Quando facciamo eventi Di questo tipo Poi c'è un momento In cui facciamo Un'estrazione Fra tutti voi E ci auguriamo Adesso vedremo Avete tutti la carta soci Di capire che prodotti Ci saranno Per cui sarà fatta un'estrazione E uno di voi Vincerà una cassetta Degli orti in cerca D'autore Bellissima iniziativa Poi volevo Insomma Chiedervi Se non l'avete già fatto Magari visitare La nostra pagina Sempre orti in cerca D'autore Su Facebook E per chi volesse C'è lì un tavolinetto Troverete Ennio Ci sono delle marmellate Le limoncelle Non mi ricordo Ah la falanghina Che avete assaggiato Buonanissima Buonasera Buonasera Fammi concludere Puoi dire qualcosa? Un momento Marchetta Dai Vabbè anche Massi Non l'abbiamo fatto Scusaci Perché non ti abbiamo visto Sei vestito in nero Non ti abbiamo visto Sono diventato quasi Invisibile No volevo Giusto Chiedere Se visitate la nostra Pagina Facebook Ci fa piacere Se mettete il mi piace Giusto Per restare in tema Grazie Assolutamente Va bene Ringraziamo anche Massi Ma voi Il momento Marchetta Vai Se volete Se volete restare informati Su tutto quello Che accade intorno al Napoli Perché ovviamente Ho capito Ci sono tanti tibusi del Napoli Qui quindi insomma Posso permettervi Di fare questo momento Marchetta Seguiteci Sul sito che personalmente Insieme a tutta la redazione Curiamo ogni giorno H24 Per informare i tifosi www.napolicalcionews.it Anche se sta per un nascere Un nuovo sito In collaborazione Con altre persone Che tra parlerà Sia di sport Sia di attualità Ricordiamo che noi abbiamo Due tipi di trasmissione Questo che avete visto Stasera E parole libertà Che è una trasmissione Tematica ironica Su vari argomenti E parliamo anche Di calcio Nella trasmissione Sotto porta show Sempre in modo carino Ironico E mai volgare Quindi speriamo Che la serata Vi sia piaciuta In costante aggiornamento Anche con tante altre cose Ne vedrete delle belle Vi ringraziamo Vi auguriamo Buona serata Grazie a tutti Chiudiamo con i Queen Will Rock you E adesso ballate